Scusa! 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 Atenzione! Suma! Scusa! 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 Ancora! Quasi presa! Uniletto, pace! Uniletto, pace! Acchio! Attenso, vatti! Attenso, vatti! Attenso, vatti! Attenso, vatti! La maledizione è spezzata! È un giorno glorioso! Fa più rumore dell'ultima. Signora, ci dica, perché era in tale forma corporea? Perché ci combatte? Non lo so! L'anima di una valchiria non può rimanere pura in un corpo materiale. Apparteniamo al mondo spirituale, è là che sono diretta! Addio! Qualcuno l'ha resi così? Ma chi? E perché? Io... non voglio azzardare ipotesi. Tu sai qualcosa? Sono Mimir, l'uomo più sapiente del mondo! So molte cose! Segron, la regina delle valchirie. Lei possiede quel potere. L'ultima volta che la vidi si era resa corporea. Venne a farmi visita dopo la mia reclusione per mani segni. Abbiamo dei trascorsi, se così si può dire. Tipo una storia d'amore. Ma ragazzo, mi fai arrossire, credo. Posso arrossire? Prima diamo la caccia a queste creature e poi alla tua ex amante? Non ci servono queste distrazioni. È ben più di una distrazione, padre. Sono valchiri. Sono loro che impediscono i morti di annientare Midgard. Stanno facendo un pessimo lavoro. Non è colpa loro. Qualcuno le ha cambiate. Le ha distolte dal loro dovere. La regina? Non ne sono sicuro. Dovremmo chiederlo a loro. Certo, se la distrazione non è un problema.